Tutti a scuola in sicurezza o meglio così ci si augura in una convivenza quanto più serena con il Covid. Se i presidi e i vari enti hanno messo in campo tutte le misure anti-coronavirus, c'è la certezza o almeno la speranza di una scuola in presenza senza problemi? L'abbiamo chiesto al direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ASL di pescare il professor Paolo Fazzi. Allora la situazione è questa, un po' ci preoccupa perché nel mondo scuola ovviamente si vanno ad abbreviare i rapporti, gli spazi che ci sono fra le persone, ovviamente molti di questi studenti alunni vanno a scuola con gli autobus, quindi dove c'è ovviamente difficilmente si riesce a trovare uno spazio congruo fra un soggetto ed un altro. Poi c'è un altro dato che dai 12 ai 18 anni solamente il 40% è vaccinato e dopo sotto i 12 anni nessuno. Di contro però c'è, ci sono delle norme che si sono date a livello scolastico, ad esempio il personale che lavora a scuola deve essere vaccinato, prima cosa positiva. E poi le mascherine, so che tutti quanti dovranno avere delle mascherine e anche la banale mascherina chirurgica, se è indossata in maniera ovviamente corretta, garantisce dalla circolazione del virus, perché se un soggetto in quel momento alberga il virus a livello delle proprie mucose, la mascherina chirurgica praticamente forma una specie di barriera insuperabile. Quindi se tutti portano in autobus o anche, soprattutto a scuola, anche la mascherina chirurgica, anche quella può essere sufficiente, purché cambiata ogni 4-5 ore, perché sappiamo che dopo 4-5 ore l'effetto filtro non c'è più. Secondo lei però i contagi potrebbero aumentare? Sì, secondo me i contagi potrebbero aumentare perché si va verso la stagione fredda che favorisce la circolazione del virus, però avremo un menor numero di ospedalizzati e un menor numero di decessi, perché c'è parecchia gente che si è vaccinata. Spero che quella gran parte di soggetti oltre 50 anni non vaccinati lo faccia nel più breve tempo possibile, perché ovviamente sono quel setting di popolazione più a rischio, quindi sono abbastanza fiducioso, pur nella considerazione che questa virosi, fin tanto che non ci si vaccinerà tutti nel mondo, rimarrà ancora per molto tempo.